La grande R La grande R che occupa ampi spazi nelle miniature delle antiche pergamene e nei libri liturgici è il segno della Pasqua. Dopo la grande A dell'introito Attelevavi, come si ricorderà, che alla prima domenica di avvento ha inaugurato l'anno liturgico, ecco ora la R di Resurrexi che ne indica il cuore. Pochi versetti del Salmo 139 nella versione cristologica della Vulgata di Girolamo, come vedremo, divengono il testo dell'introito più importante di tutto l'anno liturgico. In questa lezione ci occuperemo in modo particolare di questo introito della Messa del giorno di Pasqua. In ogni lezione abbiamo infatti preso in considerazione innanzitutto l'introito di ciascuna Messa. Tuttavia non possiamo non citare almeno i punti salienti della solenne liturgia notturna che precede questa celebrazione del mattino, addirittura superandola in importanza, cioè la veglia pasquale, che è il vero centro dell'anno liturgico. Servirebbe in realtà un intero corso per approfondire l'aspetto liturgico, la storia, la ricca simbologia, i momenti che contraddistinguono questa celebrazione e dunque dal nostro punto di vista la parte cantata di questo rito notturno anche nella sua stratificazione nel corso dei secoli. Ecco, non è questa evidentemente la sede per fare questo lungo percorso, ma i brani della veglia pasquale che citeremo, seppur brevemente, sono già indicativi di un contesto liturgico speciale e di straordinaria ricchezza. Ora, iniziamo ovviamente con il lungo canto dell'Exultet, pervenutoci dagli antichi e preziosi rotoli, miniati, che il diacono intona all'inizio della liturgia notturna come solenne annuncio pasquale, ma con melodia sobria e poco più di un recitativo, con piccole fioriture che non modificano il complessivo stile sillabico. Una melodia semplice dunque che sostiene un testo di straordinaria ricchezza teologica che ricama il tema Cristo-luce, trasfigurando la realtà e facendole assumere un volto nuovo e rigenerato. Ecco, ascoltiamo solo un piccolo frammento, il primo frammento, di questo annuncio pasquale, dell'Exultet, della veglia pasquale. Ecco, ascoltiamo solo un po' di questo annuncio. Ecco, ascoltiamo solo un po' di questo annuncio. e propanuti regis victoria, tuba in sole et salutaris. Gaudea tetellus anchis irradiata fulgorimus, et eterni regis splendore illustrata, totius torbis estensia, anisis e carigine. La liturgia della parola in questa veglia notturna è oggi di sette letture dell'Antico Testamento, ma anticamente si componeva di sole quattro letture, ciascuna delle quali era seguita dalla melodia tipo dei cantici di ottavo modo, ossia di tractus, in stile ornato e in forma diretta. La forma di tractus, incontrata in quaresima in sostituzione dell'alleluia, prevede due sole modalità, lo diciamo per inciso. Due sole modalità, entrambe plagali. Il secondo modo, il protus plagale, ad esempio per il grande tractus qui habitat della prima domenica di quaresima, che abbiamo incontrato qualche lezione fa, e ottavo modo, ad esempio il tractus qui confidunt della quarta domenica di quaresima, e appunto i cantici della veglia pasquale, pure in ottavo modo. Già abbiamo ricordato, parlando della prima e della quarta domenica di quaresima, che in questi brani ritroviamo il filo rosso della cosiddetta formula pasquale, preannunciata già nell'introito invocabit, della prima domenica, e nel comunio Jerusalem que edificatur della quarta domenica di quaresima. In tutti i quattro cantici originariamente destinati alla veglia pasquale compare più volte questa speciale cellula formulare. In cantemus domino, per la prima volta, sull'accento di enim, nel primo versetto. In vinea facta est, sull'accento di ea, nel terzo versetto. In attende celum, la prima volta su mea, nel secondo versetto. E in sicucervus, l'ultimo, sull'accento di aquarum, nel primo versetto, e altre due volte nel corso dello stesso brano. E ascoltiamo proprio questo, quest'ultimo cantico, sicucervus, e facciamo attenzione alla ricomparsa di questo elemento formulare, caratteristico, dopo averlo sentito la prima e la quarta domenica di quaresima, che stigmatizza finalmente il contesto pasquale raggiunto. Sicucervus, desibetà ad fontes aquarum, La primaράוקette del frumanos La prima volta su mea, il nostro should, la prima volta su mea, al tr plates, Grazie a tutti. 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 Dopo un silenzio durato tutta la quaresima e prima della riforma liturgica, dalla settuagesima, cioè tre domeniche prima, come abbiamo detto nella prima lezione di questo corso, ricompare nella veglia di Pasqua il canto dell'alleluia, che caratterizzerà, come vedremo nel prossimo corso, tutto il tempo pasquale. Si tratta in questo caso di un'alleluia di ottavo modo, il primo alleluia che ricompare, dove però la consueta melodia tipo, la formula, cioè degli alleluia di ottavo modo, è mantenuta solo nella cadenza finale, nella parte finale dello iubilus alleluatico. la prima parte dell'alleluia è una vera e propria melodia originale, unica in tutto il repertorio, completata poi dal suo versetto tolto dall'incipit del Salmo 117, un testo utilizzato, come vedremo, anche nei brani propri della Messa del Giorno. confitemini, domino, quoniam bonus, quoniam in secolo, misericordia eius, celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna, è la sua misericordia. Ecco, ascoltiamo ora solo l'alleluia senza il versetto, che il solista intona, il primo alleluia, dopo il silenzio della quaresima appunto, il solista intona con la ripetizione della scuola tre volte, in tonalità di volta in volta più acuta, in allusione e risposta al triplice eccellinium crucis, risuonato nell'azione liturgica del venerdì santo, e in continuità anche con il triplice lumen Christi, che invece è risuonato all'inizio della veglia notturna, della veglia pasquale. Alleluia 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 di resurrezione farcito di alleluia ad ogni frase come in tutti i testi dei canti appartenenti al tempo pasquale. All'antifona segue il versetto salmodico semiornato con il testo tolto dai primi versetti dello stesso salmo 138 Un annuncio che in realtà fatichiamo a non definire quasi deludente per la veste musicale che lo ricopre. La melodia è scarna e procede costantemente in una modalità di deuterus che da un mi grave insistente e solo leggermente ornato da pochi suoni vicini raggiunge raramente il la acuto che ne sancisce a fatica perfino l'appartenenza plagale al quarto modo. E a proposito di quarto modo occorre fare una precisazione molto importante in merito all'incipit di questo introito precisamente sulla prima parola la parola più importante resurrexi che abbiamo detto essere così centrale nel percorso dell'intero anno liturgico. Ecco se isoliamo per un attimo questo incipit dal resto del brano vediamo che la melodia vaticana indica con chiarezza la presenza di un procedimento in protus plagale sto parlando della melodia della vaticana protus plagale cioè un secondo modo finale re come vediamo e dominante fa in realtà però non è così in quanto le migliori fonti manoscritte testimoniano che in casi analoghi a quello ora in esame composti nella modalità di deuterus la sillaba tonica era posta sulla corda semitonale quindi sul mi anziché sul fa. Ritorna qui la questione della restituzione melodica della notazione quadrata della quale ci siamo occupati nelle precedenti lezioni e che in questo caso risulta davvero decisiva per la comprensione dell'esegesi di questo introito pasquale e dell'esegesi messa in campo dal canto gregoriano. Si rende pertanto necessaria la correzione della versione dell'introito di Pasqua riportata sul graduale triplex ripristinando la melodia originale che prevedeva sulla sillaba tonica di resurrexi un mi e non un fa. A prima vista potrebbe sembrare una questione di poca importanza perché in fondo viene cambiata una sola nota di questo incipit. In realtà si tratta invece di un dato assai rilevante poiché quella nota restituita il mi appunto al posto del fa in un contesto di deuterus non è solo il richiamo alla nota finale, la finalis è il mi in deuterus, ma è innanzitutto la corda strutturale dell'incipit e dell'intero brano. La conseguenza immediata e del tutto evidente è che la restituzione della linea melodica più antica ci dice che già dall'incipit, già dall'incipit cioè sin dalla prima significativa parola dell'introito di Pasqua resurrexi la costruzione del brano è in deuterus e non in protus e questo fatto come si può intuire ha ripercussioni rilevanti sul versante retorico esegetico perché cantare l'incipit della messa di Pasqua in protus come indicato nella versione vaticana o in deuterus cioè secondo la restituzione melodica desunta dai migliori codici antichi non è affatto la stessa cosa evidentemente, cambia sostanzialmente la natura espressiva, il colore della proclamazione di questo testo. Possiamo affermare che realmente lo si proclama in modo diverso, passando cioè da un protus della vaticana ad un reale deuterus. Dunque in sostanza ne viene modificata l'esegesi perché ne è stata modificata la forma sonora. Si aggiunga poi che il mi pur essendo la nota più importante dell'inciso in quanto è nello stesso tempo sillaba tonica e nota strutturale come si è detto in realtà non coincide affatto con la culminanza melodica del termine resurrexi. Segno che la melodia non asseconda semplicemente il ritmo naturale del testo ma è intesa secondo una logica ben più ricca ovvero di ordine modale. Detto questo ci chiediamo tuttavia perché a tanta solennità e solennità anche iconografica se vogliamo non corrisponda un'esuberante melodia. Ci chiediamo il perché di una ostentata distanza fra la centralità dell'evento liturgico che abbiamo ripetuto più volte e questa sorta di ritrosia dell'evento sonoro. Ci chiediamo insomma che senso può avere un annuncio di Pasqua in questo quarto modo. Ad alimentare ulteriormente la nostra perplessità contribuiscono altre riflessioni di carattere modale. Pur senza cedere a schematismi e schematismi esasperati va ricordato però che a ciascuno degli otto modi gregoriani, il sistema come sappiamo denominato octo-ecos, i teorici medievali e di epoche successive attribuivano uno specifico etos, questo pure abbiamo già detto altre volte. La stessa arte medievale ha voluto rappresentare visivamente le qualità estetiche di carattere e di senso dei modi gregoriani. Celebri sono ad esempio le raffigurazioni dei modi sui capitelli di Cluny. Nel nostro caso sul capitello Cluniacense relativo al quarto modo compare un eloquente iscrizione che lo spiega assegnandogli addirittura un carattere funebre accompagnato da un velo di tristezza. Si legge succedit quartus simulans in carmine planctus. L'introito di Pasqua segna dunque un punto di massima distanza fra le nostre aspettative e la proposta reale del canto gregoriano. Ma questa distanza, a ben vedere, è misurata solo sulla nostra incapacità di entrare in profonda sintonia con la componente allusiva di questo repertorio, della quale abbiamo già parlato ma che spesso dimentichiamo e che è invece la vera chiave di volta del progetto complessivo, del progetto liturgico musicale complessivo. Si è detto che non è giusto cedere a uno schematismo esasperato riguardo alla teoria affascinante dell'ethos modale, questo è giusto? Significa banalmente che non tutti i brani in quarto modo sono collegati al lutto o alla tristezza evidentemente. La questione ovviamente è ben più complessa. Una volta chiarito però questo presupposto risulta comunque evidente che le diverse modalità, come del resto ogni altro elemento costitutivo del canto gregoriano, vengono considerate sotto diversi aspetti, ricercando ad esempio i rimandi formulari e le concordanze. La componente allusiva, propria della logica formulare, si estende infatti anche alla logica modale. Come serve una lettura intelligente della formula, quindi non circoscritta a qualche evidente e magari stereotipato rimando a casi evidenti e paralleli, così è necessario uno sguardo aperto in merito all'utilizzo di medesime strutture modali. Non basta uno sguardo dal di dentro per ogni brano gregoriano, va ricercato una logica di ampio respiro tanto sul versante formulare quanto, come in questo caso, sul versante modale. La delicata teoria dell'ethos, pur affascinante, dell'ethos dei modi, può rivelarsi in realtà un prezioso aiuto per scoprire una sorta di modalità tendenziale che, partendo dal singolo brano, abbraccia un intero percorso liturgico, costruendo relazioni di senso e facendosi strumento di memoria e per la memoria. Nella fattispecie l'introito resurrexi è segno, espressione e compimento di un percorso, di un percorso liturgico, non solo della messa di Pasqua, ma di un percorso, quello del triduo pasquale, durante il quale vengono celebrate senza soluzione di continuità la passione e la morte e la risurrezione del Signore. L'attenzione è da concentrare intenzionalmente proprio sulla congiunzione e che sancisce l'assoluta continuità dei tre eventi e li accosta sotto un unico sguardo, secondo l'articolo di fede proclamato nel credo, passus et sepultus est et resurrexit. Mantenendo il discorso in ambito modale possiamo dire che non è forse casuale l'appartenenza alla modalità di Deuterus dell'introito Nos Autem che nella Missa in Cena Domini dal Giovedì Santo apre il triduo pasquale. Nel celebre testo paolino, da Galati capitolo 6, troviamo il sunto dell'evento pasquale. Nos in quo est salus vita et resurrexio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Ma noi dobbiamo gloriarci nella croce del Signore nostro Gesù Cristo nel quale è la nostra salvezza, vita e risurrezione, mediante il quale siamo stati salvati e liberati. Croce e risurrezione dunque sono già accostati, intrecciati ed è contemporaneamente annunciata la prospettiva di salvezza in un'unica modalità di Deuterus. Per completezza va anche ricordato che lo stesso introito Nos Autem del Giovedì Santo è a sua volta preceduto da un itinerario in Deuterus tracciato dagli introiti dei primi giorni della Settimana Santa. Quindi la modalità tendenziale, chiamiamola così, che accompagna questo cammino non può che coinvolgere anche la Pasqua. Il canto gregoriano pronuncia un resurrexi carico di memoria e pertanto non separabile dai precedenti giorni in Deuterus e per questo motivo dunque l'esecuzione isolata di questo introito nelle nostre liturgie ci può sembrare perfino fuori luogo. Forse è davvero così ma non per una delusione di cui sarebbe responsabile il canto gregoriano quanto piuttosto per la nostra assenza di memoria. La messa del giorno di Pasqua tuttavia non ha solo il carattere, il colore scuro del Deuterus. Se il resurrexi si pone come stato fin qui rimarcato come compimento di un percorso di passione è altrettanto vero che gli altri canti del proprio di questa stessa messa, come vedremo nella prossima lezione, toccano tutte le categorie modali fondamentali del sistema dell'octoecos. Il graduale, il graduale ec dies, è in protus, cioè nella melodia tipo dei graduali di secondo modo, mentre l'offertorio terra tremuit ripropone il Deuterus per un testo salmico, il Salmo 75, un testo di intensa drammaticità. La terra ha tremato e si è quietata quando è sorto Dio a fare giustizia. Il vero giubilo non può che essere affidato all'alleluia, all'alleluia pasca nostrum e alla sua dirompente modalità di tetrardus autentico, il settimo modo, pieno di slancio, di slancio giovanile. Infine lo stesso testo paolino, pasca nostrum, Cristo nostra Pasqua è immolato, viene fatto risuonare in tritus plagale, sesto modo, nell'antifona di communio, il communio appunto pasca nostrum, dove la gioia pasquale trova un approdo sereno, devoto e si fa gioia piena e contenuta. L'annuncio pasquale, punteggiato di nuovi alleluia in ogni brano e commentato dalla notissima sequenza vittime pascali, laudes, viene completato in pienezza quindi e nell'arco dell'intera messa risuona quindi in tutte le possibili lingue modali che il canto gregoriano conosce. Ma forse volendo allargare il nostro sguardo modale alla veglia pasquale che precede, come abbiamo detto, questa messa del giorno, possiamo intravedere nelle melodie tipo dei cantici in ottavo modo, che seguono appunto le letture della veglia pasquale, le tinte della perfezione attribuita, come abbiamo detto altre volte, alla modalità di tetrardus plagale, cioè all'ultimo dei modi, l'ottavo modo. Lo stesso colore è mantenuto e decisamente confermato dalla vera novità che caratterizza la celebrazione centrale dell'anno liturgico, il canto dell'alleluia. Il giubilo, lo jubilus pasquale, irrompe con speciale efficacia tanto a causa di una prolungata assenza nel tempo quaresimale quanto segnatamente in forza di una costruzione modale precisamente in tetrardus, in tetrardus plagale, in ottavo modo. Concludiamo questa prima lezione sulla liturgia di Pasqua ascoltando l'introito Resurrexi, ovviamente nella versione melodica, come detto, la versione melodica corretta nei contesti semitonali. di Parano 2. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.